Ciao a tutti, come vedete ci troviamo nella nostra splendida chiesa abbaziale, perché questo è il suo titolo. E perché mi trovo qui? Ci è venuta un'idea. La nostra chiesa è ricca per esempio di tanti altari laterali o altari minori, per distinguerlo dall'altare maggiore che vedete, siamo a sera, il sole entra dal finestrone e lo vedete ben illuminato. E partendo da questi altari laterali ci è venuta, dicevo, questa idea. Perché non fare dei piccoli video in cui spieghiamo il senso e il significato di ognuno di questi altari laterali che la nostra chiesa ha. Vedremo più che dal punto di vista artistico, dal punto di vista spirituale, i santi e tutto ciò che comporta questa grande nostra chiesa a riguardo di questi santi che troviamo negli altari. Vi aspettiamo prossimamente su questo canale dell'Oratorio di Nevi. Ciao a tutti!